Nell'episodio precedente, Crazy ha avuto un'ottima idea giocare una mega partita a nascondino per decretare chi si terrà la bussola magica. Nascondino! 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 Eh sì sì, nascondino! Nascondino! Grazie alla potenza dei meddamici la vittoria è stata facile, i pirati però non sono molto contenti di aver perso la bussola. Dona! Ciao, ho vinto! Ma se... partiamo, neanche un secondo? Aspettate, calmi, 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 calmi! Grazie alla potenza dei meddamici la vittoria è stata facile, i pirati però non sono molto contenti di aver perso la bussola che loro tanto amavano. Cosa succederà adesso? Ma se... partiamo, neanche un secondo? Aspettate, calmi, 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 calmi! Eh, aspettate ragazzi! Potremmo trovare una soluzione! Eh, ragazzi aiuto! 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 Eh, ragazzi scusate abbiamo un piccolo problema! Ragazze! Eh, lo vediamo! Eh, trova una soluzione! Eh, sì, eppure velocemente! Eh, eh, aspettate ragazzi! Ho un'ottima idea! Ho un'ottima idea! Eh, sì, su, su, su! Qual'è l'ottima idea? Eh, qual'è l'ottima idea? L'ottima idea è che dato che tutti e due vogliamo la bussola, giusto? Sì, voglio la bussola! Potremmo, per esempio, come dire, accordarci, giusto pirati, eh? Per esempio, potremmo tenercela un po' io e un po' voi! Che ne pensate se io la tenessi per 24 ore e dopo la darei a voi, eh? Ottima idea, vero? Eh, non mi piace questa idea! Andiamo? Solo 24 ore e poi te la darò per sempre, te lo giuro! Ti prego, 24 ore, 20 ore! No, tu furbo, tu scappare! No, 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 scappare, no! Io scappare! Io c'è con i capelli verdi, uno che scappa con i capelli verdi, andiamo pirata! Allora? Eh, va bene! Va bene, dai, con la mano! No, guarda che io metto sul pendolone se tu scappare! Eh, pendolo, cioè tu mi vuoi mangiare, ok! Ne terrò nota! Ragazzi, eccomi! Chris, come hai fatto ad avere la bussola? Infatti, allora... Devi darla ai pirati? Sì, abbiamo fatto un ottimo accordo! Praticamente, hanno detto che ce la lanceranno per 10 ore! Eh? Cosa? 10 ore! Eh sì, ragazzi, non volevano farlo un giorno, quindi... E poi era da loro! Ma a noi serve la bussola! Lo so, ragazzi, guardate dove sono messi! Sono lì! Sono lì che ci aspettano! Solo 10 ore! Eh sì, solo 10 ore! Chris, sì, ho un'ottima idea! Un'idea? Prendiamo la bussola e ce ne scappiamo! Mi hanno detto che se proviamo a scappare... Sì? ...ci mangeranno vivi! E se facessimo una cosa... Cosa? Creeremo una finta bussola! Una finta bussola? Come vuoi creare una bussola del genere qui, su una spiaggia deserta, no? Un legno! No, no, è impossibile, teoricamente è impossibile! Ragazzi, cerchiamo di trovare qualche idea subito e anche al più presto! Sì! Ma ciao, gentili pirati! E tu chi sei? Io mi chiamo Conte Dracula e sono il capo di questo mondo! Cosa volete tu da noi? Semplice! Ho bisogno della vostra bussola! Anzi, della bussola che hanno gli amici laggiù! Solo che, diciamo, vi dovete togliere di mezzo se è possibile! Bussola! Bussola nostra! Bussola nostra! Non si tocca! Sì, capisco bene che siete arrabbiati, ma io sono il Conte Dracula, il capo dei vampiri, colui che non brucia il sole! Il capo! Tu vuoi bussola? Ho toccato! Non mi avete voluto ascoltare? Va bene! Io l'avevo detto che non era opportuno mettersi contro il Conte Dracula! Guardali che fine hanno fatto, stupidi pirati! Se non me ne andrete entro tre ore, vi mangerò le orecchie e vi mangerò a pezzettini! Secondo me questa idea potrebbe proprio funzionare, che ne dite? Sì, 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 secondo me sì! Allora chi va a proporla? Io no perché sono una femminuccia! Io no perché... Ho capito, devo essere sempre io, vado io! Aspetta, Chrissy, sei sicuro? Sì, vado io, allora? No, secondo me è meglio non andarci! No, 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 vado io! Fermo! Perché? Ci andrò io! Tu? Sì! Ma da qua perché Foxy è così coraggioso! Ma da qua! Ok! Amici pirati, ho deciso che ci arregniamo! Volete la bussola? No! No bussola! No bussola! No bussola! Le ho fatti scappare! Amici! Ragazzi! Stanno scappando! Ma da quando Foxy è così intelligente! Ma non lo so, com'è possibile! Andiamo nel momento, cacciamoli via da qui! Andiamo via 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 via! Andiamo via 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 totalmente sconfitti se ne stanno andando Foxy ora tu mi devi dire qualcosina devo insegnare i miei trucchi da mare è diventato un vero uomo io voglio sapere come hai fatto a cacciare questi pirati da qua ragazzi 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 mi sembra un sogno ce l'abbiamo fatta anzi ce l'hai fatta mi sono staccato veramente tanto a cacciare i pirati sono tanto curiosa di sapere funzionete bene che vi racconto allora è una storia molto molto lunga alzoto come li hai fatti ad andare via grazie alla mia potenza alla mia astuzia alla mia genialità sono riuscito soltanto con una parola a cacciarli via e quale sarebbe questa parola? cosa stai dicendo Foxy? bussola cioè tu appena hai detto bussola loro sono scappati devi dirlo con un accento bussola bussola non ci credo a quello che stai dicendo effettivamente è molto strano ti vedi gli sfigati ok sfigati non riuscirete mai a cacciare dei pirati come faccio io io non ci credo minimamente ma da quando è intelligente appunto stai dicendo tutte balle bene ora che quei pirati non sono più un problema non mi resta che rubare la bussola a Cressy e i suoi amici però non lo farò mica io tenetevi pronti cari amici miei non sapete quello che vi aspetta stupidi maggiosi adesso è venuta non mi resta di me è venuta non mi resta di me non si è venuta non mi resta di me